Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, oggi parliamo di Inter L'Inter si è assicurata le prestazioni di Gosens dalla Atalanta A mio avviso è un gran bel colpo e l'unica cosa che personalmente mi preoccuperebbe se fossi un tifoso dell'Inter è il discorso integrità del giocatore Perché dico questo? Perché comunque Robin Gosens è assente dai campi da gioco già dal 29 settembre Quella è stata la sua ultima partita giocata E poi una lesione di terzo grado al bicipite femorale della coscia destra l'ha tenuto fuori fino ad oggi E da quattro ore è venuto fuori dalle visite mediche effettuate dall'Inter Comunque il giocatore non dovrebbe essere a disposizione almeno fino a fine febbraio Quindi comunque se fossi un tifoso dell'Inter sarei un po' preoccupato per la sua integrità Perché comunque è un problema di tipo muscolare È un problema di tipo muscolare che comunque ti tiene fuori da settembre Onestamente mi preoccuperebbe un po' Visto anche il fatto che comunque il suo rientro già è slittato più volte Poi se andiamo ad analizzare l'operazione in sé Sicuramente è un'operazione intelligente, è un'operazione importante Perché comunque l'Inter sta rischiando di perdere Ivan Perisic a zero In quanto non si sa se Perisic voglia o no rinnovare il contratto E quindi loro in questa maniera comunque si sono andati a prendere un esterno di tutta fascia Tutta fascia molto forte E comunque molto prolifico Ragazzi io sono sempre un po' restio sui giocatori dell'Atalanta Cioè sono giocatori che messi nel contesto dell'Atalanta Rendono in una maniera Bisogna vedere come rendono fuori dall'Atalanta Ad esempio mi ricordo Gosens Comunque In campo con la Germania All'Europeo E comunque aveva fatto vedere ottime cose Però bisogna poi vederlo su un lungo periodo Io penso che con Simonin Zaghi possa fare bene Perché comunque Simonin Zaghi è uno che sfrutta bene gli esterni Quindi penso che possa fare bene E poi l'Inter comunque avrebbe due giocatori di un certo tipo sulle fasce Avrebbe da un lato Danfries e da un lato appunto Robin Gosens E quindi sarebbero due ottimi giocatori sulle corsie Quindi operazione importante Entriamo un attimo nello specifico delle cifre Per quanto riporta la gazzetta Il prestito alla fine è stato un prestito gratuito E l'Inter poi avrà l'obbligo di riscatto a 22 milioni Più 3 di bonus Quindi alla fine parliamo anche di cifre abbastanza contenute E anche qui mi viene un minimo di dubbio Perché io ricordo che quest'estate L'Atalanta per Gosens chiedesse 45 milioni Scendere così tanto di prezzo Mi fa un pochettino Sorgere qualche dubbio Ecco perché comunque è un giocatore Che potrebbe tra virgolette No tra virgolette Potrebbe far fruttare all'Atalanta dei bei soldini Vendono in questa maniera E' vero che ha avuto l'infortune Quindi è inattivo da un bel po' di mesi Però diciamo mi fa un po' Mi fa un po' riflettere ecco questa cosa qui Mi sembra un po' una cosa strana Ecco però ragazzi L'Inter a mio avviso ha fatto un grandissimo colpo Al giocatore andranno 2 milioni e mezzo Più bonus Il contratto che lo legherà con il club Nerazzurro fino al 2026 Quindi 2 milioni e mezzo Per arrivare a un totale di massimo 3 milioni con i bonus Ragazzi che dire Per me è un bel acquisto Ripeto i miei dubbi Sono sul Per quanto riguarda diciamo il discorso E' prettamente fisico Perché un conto è rompersi magari Faccio un esempio Una caviglia E un conto è avere Problemi muscolari di questo tipo Vedremo Vedremo cosa succederà Vedremo cosa succederà Però intanto al momento l'Inter Si è messa Tranquilla Che è coperta Su quella fascia Prendendosi comunque un giocatore Come Robin Gosens Che credo non abbia bisogno di Sicuramente di presentazioni Vorrei solo dire una cosa Coloro che dicono L'Inter ha risposto alla Juventus Con l'acquisto di Robin Gosens E con questo acquisto Abbiamo risposto All'acquisto di Vlaovic La parte della Juventus Ecco mi è solito di dire Che sono due operazioni Completamente differenti Io penso che se Qualsiasi gioco Tifoso interista Avesse dovuto scegliere Si sarebbe sicuramente preso E avrebbe sicuramente voluto Dujan Vlaovic Sono due giocatori Di età differente Con caratteristiche differenti Da ruolo differenti E che ti portano cose differenti Quindi l'Inter ha risposto Sul mercato alla Juventus Sì Ma ha risposto In fatto di Mossa di mercato L'acquisto di Gosens A mio avviso Non può essere Nemmeno non talmente Paragonato a quello Di Dujan Vlaovic Detto ciò Ragazzi Vedremo quando Lo potremo vedere in campo Io penso che Se tutto dovesse andare bene Per inizio Barra metà marzo Gosens Potrebbe già scendere In campo Con la nuova maglia Neroazzurra E vedremo Vedremo cosa combinerà Sono molto molto curioso Dico la verità Perché Veramente sono convinto Che con Simonin Zaghi Comunque Possa fare bene Nonostante Esca fuori Dall'ambiente Atalanta Vedremo Se lui sarà Uno di quei giocatori Che nonostante Si è uscito da Atalanta Se è riuscito a confermare Su certi livelli Ad esempio tipo Un che si Oppure se farà Magari la fine Di un gagliardini O qualche altro Che invece Non è riuscito A mantenere Quel tipo Di status Io sono convinto Veramente Che comunque Possa fare bene Detto ciò Ragazzi Io vi invito A scrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Difondete il verbo Fate scrivere Più persone possibili Più cresciamo E meglio è E io vi mando Un forte abbraccio E grazie a tutti Ciao